Questa sera, 11 novembre 2017, nuovo appuntamento con Tussi Chevales, il programma che vede impegnati i tre giudici che devono dare un'opinione favorevole e contraria a ciascuna esibizione che si viene ad apparisare. E pensate che la bella, brava e simpatica Maria Di Filippi avrebbe invitato il buon Massimo Giletti per partecipare probabilmente in veste di ospite a questo reality, no, a questo talent show di Canale 5. Però Giletti pensate che avrebbe accettato proprio l'invito e quindi questa sera molto probabilmente ci sarà anche Massimo Giletti in qualità di ospite d'eccezione. Bene, chissà come si comporterà Giletti, sono molto contento di ciò, sono molto felice, il video termina qua. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e se in tale video fossero presenti delle inesattesse, mi scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escluso di me eventuali responsabilità di natura penale e uccidere. Grazie.